Enjoy signori, rando qui con voi e questo oggi siamo qui su The Wolf Among Us L'ultima volta che avevamo giocato eravamo rimasti nella pupuccia Ragazzi, era arrivata Biancaneve dentro nella stanza dove stava interrogando PinkoPanko Quindi ragazzi, io vi invito ancora una volta, prima di iniziare a lasciarmi un commentino per dirmi ciò che mi pare Almeno 100 mi piace ragazzi, arriviamoci per il prossimo video Ma adesso riprendiamo la partita Episodio 2, Smoke and Mirrors Eccoci qui, siamo di nuovo a casa ragazzi E come abbiamo visto nel ultimo episodio, Biancaneve ancora viva E pensavamo fossi morta, è questo E effettivamente visto così no, però insomma Cavolo, sono confuso Madonna E la vera Stavo lavorando su questo caso Stavo lavorando su questo caso Ragazzi se farlo poco tra i dialoghi è per capire Perché comunque la faccenda si fa complicata Quindi lei Eh voglio arrivare in fondo alla questione Ma allora Chi è che ha messo la testa di lei Decapitata davanti alle scale Ah ok Ah quindi è vera Una persona vera ma che assomigliava E diciamo la verità Che deve stare attenta A un punto si sa che hanno perduto il suo target E si vanno a guardare per me Abbiamo solo trovato chi ha fatto questo E perché lei era glamoura per sembrare come me Anche io penso a questo ragazzo Non è quello che intendevo Però era per tenersi sicura Su questo non ha torto però siamo affezionati Porca vacca lo vuoi capire o no I'm sorry I'm sorry about that Ah Alla fine finirà male ho capito dai Sto facendo persi Me stesso Mi chiede di essere un po' più buono Ragazzi Cosa devo fare Cazzuto come sempre Fa niente Mi compliquerò la vita ma l'ho detto Lo faccio Ufficio affari di favolanti Ai boschi Tardo pomeriggio Cazzo che figata anche Che ci dice che momento della giornata è Dove siamo E tutte le cose Ok il nostro gargoi Che non mi ricordo Va Bafkin Naturalmente Miss Neve Ok quindi Todd Mister Rospo Andiamo a parlare con Mister Rospo Cerchiamo di essere buoni ma non troppo C'è anche il bambino lo chiamo ma Il giri Perché l'abbiamo picchiato ragazzi Davanti a lui l'abbiamo tirato una sberla E vuole chiedere Vuole le scuse RJ Ok da quello che c'è detto prima Ha trovato un corpo Io voglio aiutare Guardare le scuse Adesso Start from the beginning Go ahead TJ Igo swimming at night sometimes In the river Ok But wasn't doing anything bad I promise Of course you weren't We know you're a good kid Che cosa hai visto Sotto i caratteri Ok Bravo Infatti lui è una rana quindi un rosco Confortiamolo dai Un bambino Madonna mia Quindi probabilmente è il corpo Assomiglia alla voce di Clem Ah ok Gli hanno legato quindi i piedi Con dei pesi per farla andare giù Hai capito? Dei mattoni Dicciamogli di dire la verità giusto te Dicciamogli di che non è niguo Diciamogli che non è niguo Diciamogli si ha visto qualcuno Perché qua alla fine è quello che ci serve Eh Diciamogli di dire la verità giusto Diciamogli di dire la verità giusto Dobbiamo fare più domande Però non ci aiuta più mi sa raga Ok Ok Non ancora Non puoi mantenere il suo Non puoi mantenere la verità giusto Bigby Hai la tua informazione Non abbiamo bisogno di sbagliare Questo sbagliato Ok Niente Perfetto Va bene così Toll Anche questo non l'ho capito Anche questo non l'ho capito Malia Cos'è Ma cos'è la malia ragazzi Non mi ricordo Sì 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 Oh mio bravo Ho quasi l'ascostato Cos'è che dimenticavo Non l'ho capito Camera del pozzo delle streghe I boschi Quindi c'è una zona Dove noi dobbiamo camminare Andiamo 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 Vedete che va Guarda adesso Adopiano E così vado un po' più veloce Lo vedete? Piano Veloce Se premi shift va Quindi vedete ragazzi Vedete la testa Eccola qui Eccola qui Porca vacca E' uguale Uguale a lei Stesso orecchino Stesso Tutto Madonna E' inquietante La malia è così efficace E' invasiva Ma Fai quello che devi fare Ok Perfetto Già capito Cosa devo fare Esaminiamo il segno sul collo Sembra proprio come quella di Fai Fare altri test La spilla Non era Non era All right Andiamo a vedere la testa La malia è stata la stessa La malia è stata la stessa Potrebbe essere una macchina In la cuore anche Cosa Cosa? 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 Non è esattamente la stessa Posso Closare la mia Cosa? Grazie Nient'altro ragazzi Vediamo Ah ok Ci sono dei segni Di corta sulla caviglia E' stata legata Madonna mia E' come quando l'hanno fatto L'hanno legata con dei mattoni O qualcosa del genere Segni di buchi Droghe terrene È possibile che si stesse tagliato Per non farlo, esatto Eh, può essere giusto Ah ok Quindi significa, ragazzi, queste maglie probabilmente sono delle specie di cose che tu puoi bere, mangiare, non ho capito Che si trasformano in qualcuno, in qualcuno delle favole da quello che posso capire Dopo devo guardare, telecamera spenta, vado a vedere un attimo cosa è perché non mi ricordo Ah ok, vuole farlo lei, perfetto Dobbiamo indagare, dobbiamo indagare è l'unico modo Qua c'è, si cela qualcosa di grosso Madonna mia Eh sì Ok, allora, analizziamo Tasca Vediamo se c'è qualcosa all'interno Potremmo Cosa è questo? È un profumo Come sai che profumo è? Non è vero, sei a lupi Non è vero Alguien Dio L'instruzione Lingerie Osserviamo l'ingerie Non è vero Perché Non è vero Perché vuoi sapere? Eh Non lo sono Perfetto Il pugno, il pugno, il pugno Vediamo Nessun segno sulle nuove Allora, madonna Forziamo, ragazzi Dovemmo vedere, dobbiamo forza vedere Cucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc Dei fiori Nella tasca che abbiamo? Soldi? No, cos'è quella roba lì? Ah, ok, è qualcosa di magico Tranquillo, Crane Posso capirlo Qualcosa a che fare con questi anelli Ah, ok, dobbiamo... Ok, forse dopo 40 miliardi di anni Sono riuscito a ricostruire, vediamo Yep Ok Un cervo Si è aperto Oh my god Cosa si celava all'interno Fotografia arrotolata Fotografia arrotolata Vediamo Eh sì, e lei ci assomiglia molto Ma non è lei Ah no, è lei Ah, è sua sorella Allora, teoricamente E ora c'è la ciocca di capelli È da esaminare Dall'olfatto già riesce a capire che sono i suoi capelli È spaventata e la capisco Chi è questo, BigBee? Chi è un... no, è? È un troppo? Ah sì, un porca troia ci sta Prima non c'era Prima non c'era Cos'è? Non so molti trolle, sono freddo Dev'essere lasciarli tornare in casa Non lo vuoi dire, no? Forse Holly la conosce Holly è, mi sembra, la barista Quella dell'episodio precedente Ah ok, quindi è la sorella Quindi questa, teoricamente, è la sorella della barista Un altro troll Mostri i troll chi sono Si trolla raga, aiutatemi anche voi nei commenti Che ci dobbiamo arrivare insieme È troppo pericoloso Ragazzi ho preferito lasciarla qui Lo so che la faccio soffrire Ma la tengo al sicuro Secondo il mio modesto parere Siamo dispiaciuti Ma è la cosa migliore Fidatemi Almeno Spero Il trip trap bar Ok ragazzi Questo mi sembra un buon punto per interrompere l'episodio Siamo di nuovo al trip trap bar E dobbiamo andare a dire alla barista Che esso la sorella è morta Io a questo punto non vi trito più Penso che per questo episodio Possa bastare Da random Mi è The Wolf Among Us È tutto Enjoy ragazzi Sì